e ci iniziamo ciao a tutti bentornati in questo nuovo video i mercati si sono fermati dal loro crollo quindi bitcoin si è un po riposato dopo aver fatto le bizze domenica ragazzi allora questo video continua quello che abbiamo visto nella giornata di domenica quindi il video del flash crash ragazzi è un video continuazione parte 2 come ritorno al futuro parte 2 quella non mi piace come film comunque vabbè è la parte 2 ok allora ragazzi chi non avesse visto le motivazioni del flash crash come è avvenuto il flash crash dei mercati e perché è avvenuto il flash crash dei mercati andasse a vedere il video che vi metto sopra la mia testa che è quello di domenica quindi guardate quello prima di vedere questo dopodiché qui andiamo a fare una serie di approfondimenti dell'attuale situazione e andiamo a cercare di chiudere i puntini su tutto quello che sta succedendo vedremo bitcoin vedremo eterium vedremo un grafico anche di lungo periodo di bitcoin per cercare di capire se qualcosa sta cambiando e che aria tira per le prossime settimane prima di andare avanti vi ricordo la nostra masterclass gratuita di xtb ragazzi ci siete scritti tantissimi sono molto contento ovviamente io faccio del mio meglio e farò del mio meglio proprio per parlare di quelle che sono le tecniche di stock picking delle stock quindi questo caso faremo stocks e non cripto ma più o meno ragazzi moltissime di quelle strategie che insomma delle delle strategie dei punti da applicare di cui vi parlerò il 21 sono applicabili anche nel settore delle criptovalute soprattutto nelle altcoin quindi chi ti voglia ancora non si è iscritto trovate i link in descrizione è gratuita è una lezione gratuita è sempre ben accetta va bene ragazzi poi secondo annuncio purtroppo ma insomma ho ricevuto anche una chiamata da un carissimo amico che mi diceva di fare questo video quindi vi faccio vedere una cosa allora è un po di tempo è un po di tempo che tutti i canali delle cripto quelli più grossi sono bersagliati da spam e commenti spam ci clonano il canale e commentano con la nostra immagine con la nostra dicitura a al posto nostro ragazzi quindi non siamo noi a commentare ma sono degli spam vi faccio vedere quindi il tool del mio canale direttamente ragazzi e guardate un po qui allora ragazzi se trovate risposte di questo tipo non sono io ok ragazzi non sono io perché intanto io non ho uno subscriber se questo è ovvio che andate a controllare se chi vi commenta effettivamente è il mio account oppure un fake purtroppo questo è un problema che stiamo avendo tantissimi youtuber perché evidentemente youtube non riesce a controllare questo problema degli spam ragazzi in alcuni casi se non sbaglio comunque quando viene fatto il commento da me appare in questo modo quindi con una parte evidenziata dovrebbe essere così anche per voi adesso sinceramente non ne sono sicurissimo perché non vorrei che magari questa cosa appare solo perché sono sul mio canale comunque ricordatevi ragazzi intanto io non scrivo in un italiano pezzio quindi per fortuna scrivo in un buon italiano e poi non vi scriverò mai e poi mai numeri di telefono o link che dovete andare a cliccare per diventare miliardari non sono io sono spam stati attenti ragazzi perché sono cose molto pericolose e in alcune situazioni poi vi rubano i soldi ok purtroppo youtube non ci aiuta in questo e non c'è modo di cambiare questa storia quindi spargete il verbo anzi se trovate questi tipi di utenti segnalateli tranquillamente andandolo a segnalare come spam alla piattaforma di youtube ok scusa oggi è andata così va bene allora intanto io poi vi ringrazio per l'afflusso di iscritti nel video di ieri che è stato un boom incredibile io sono contento perché vuol dire che apprezzate anche i sacrifici la domenica mattina di fare video e star vicino ma o per sopperire anche a quella che è una problematica probabilmente a cui andiamo incontro nelle prossime settimane secondo me per quanto riguarda il mercato delle cripto ho deciso di fare un altro regalo a tutti quanti voi per avere più velocità e comunicare in maniera più istantanea ragazzi per il prossimo mesetto io pubblicherò quello che faccio io non solo nella mia academy ma anche sul mio canale telegram trovate il link in descrizione il canale telegram è gratuito ragazzi quindi questo è una cosa che mi sforzano di fare per cercare di allertare magari qualcuno qualche più persona nelle prossime settimane su quello che potrebbe succedere perché io sono un po dell'avviso che saranno un po movimentate quindi vi dirò quello che sto facendo io ovviamente non dovete in nessun modo copiarmi perché non si copiano le persone ragazzi si studia il trading investimento non dovete copiarmi però per venire in conto insomma come un regalo insomma da fare a tutta la community perché se dovesse essere veramente movimentata la cosa su youtube siamo troppo lenti nel comunicare canale telegram ragazzi vi lascio il link in descrizione gratuito vi iscrivete io scriverò per le prossime settimane quel che farò ok ok siamo al primo grafico ragazzi quello che è successo è semplicemente questo allora questo è il grafico che trovate nel mio scorso video nello scenario che stavo seguendo identico non l'ho fatto apposta ma nel mese di aprile e bitcoin ai mercati sono stati perfettamente in linea con tutte le mie analisi dalla prima all'ultima ovviamente marzo avevamo già visto che era una situazione estremamente pericolosa marzo invece i mercati hanno resistito aprile no perché poi è sempre così ragazzi se non è una è l'altra ovviamente è una questione di ipotesi e le ipotesi prima o poi si allineano a quelle che sono le nostre view allora cosa è cambiato da un punto di vista di trend quindi facciamo un po di trend analisi per quanto riguarda breve e medio e lungo periodo nel breve periodo lo vedete da un po il mercato hanno incontrato un livello di resistenza hanno fatto questa candela che una candela molto famosa quindi di massimo uno stile di candela insomma ragazzi che evidenzia che il mercato raggiunge un massimo poi torna indietro e fa un piccolo corpo quindi questo è un pattern di inversione di medio periodo il mercato poi l'ha rispettato nel giorno successivo facendo una inside e poi il giorno successivo breccando questi livelli di minimo ha fatto poi tutto quello che avete visto quindi tre candele rosse e va inclosa allora questa probabilmente è una chiusura di un ciclo ragazzi ancora non sono convintissimo che sia un ciclo mensile a sé però tecnicamente dovrebbe essere così perché guardate un po lasciato che ha fatto e poi io vi avevo già accennato nella precedente analisi che era possibile che il mercato facesse un ciclo di tre mensili più corti quindi costruito in questo modo in questo caso ragazzi dovremmo assistere a breve ad un eventuale recupero di qualche ora qualche giorno se non è già questo quello che purtroppo ha fatto perché il mercato dovrebbe leggermente recuperare per poi andare a chiudere definitivamente il ciclo intorno secondo me alla prima settimana di maggio quindi questo dovrebbe essere un ciclo composto da tre cicli ragazzi e sono questi qui uno che è stato chiuso il 25 di marzo un altro che dovrebbe essere stato chiuso il qui non ricordo se era il 17 e il 18 scusate mattina dopodiché un terzo ciclo che deve essere completato dal mercato che dovrebbe chiudere tutta questa che è la struttura che stiamo vedendo allora io l'ho creato in questo modo ovviamente è una previsione quindi non mi interessa la precisione della data ma è un'idea per farvi capire quello che bitcoin potrebbe realizzare se fa una cosa del genere mi viene un po difficile ad immaginare che il mercato nei prossimi giorni possa spingersi vicino ai massimi probabilmente non ci riuscirà e farà una cosa del genere tecnicamente ragazzi tecnicamente poi c'è tra il dire e il fare perché ieri è avvenuto un flash crash quindi un pochettino dovremmo realizzarlo tecnicamente però questo ciclo che sta iniziando o è già iniziato non lo sappiamo a breve dovrebbe andare sotto il minimo di ieri questo dice la teoria poi da qui a vedere se effettivamente insomma questa cosa avviene dovremmo capirlo e se avvenisse in ogni caso una cosa del genere potremmo indicare questa fase come la fase di chiusura del ciclo annuale perché sarebbe la seconda ipotesi delle mie famose tre ipotesi ragazzi ormai indirizzate tre mesi fa se non sbaglio nel video di tre mesi fa dove parlavo di un'eventuale possibilità di chiusura dei cicli annuali visto che marzo è saltata in questo caso ci sposteremo a maggio giugno allora questo potrebbe essere accettabile in queste ipotesi può essere l'ultima ipotesi cioè annuale già chiuso e quindi poi successivo a dicembre quelle ipotesi lì la abbracceremo solo se ragazzi il mercato da qui riprende un trend totalmente positivo e quindi tutto quello che ci stiamo dicendo noi va sopra i massimi a 64 subito però non a giugno ragazzi ok perché adesso vi faccio capire che secondo me poi nella successiva ripresa si può tentare la scalata a nuovi massimi almeno si potrebbe fare poi ovviamente qui c'è da essere un po' di trader e quindi stare sempre a trend ragazzi però al momento diciamo divagare troppo altrimenti ci perdiamo questa è la struttura che vedo più probabile nei prossimi giorni per quanto riguarda il mercato quindi purtroppo una fase di leggera lateralità può essere anche un po' leggermente rialzista una cosa del genere ma oggi vedo un po' di debolezza rispetto a quello che mi aspettavo sono sincero mi aspettavo più forza in questa parte qui vediamo se lo fa domani ragazzi perché è una shadow pronunciata così è pericolosissima non vi credete che un recupero fatto di questo tipo sia positivo per il mercato in realtà è semplicemente una ripresa di questo livello qui che sono i 56 che è un livello spartiacque vedete da due diciamo il centro di una super barra di congestione che è iniziata sostanzialmente a marzo quindi un po' questa struttura ma ragazzi allora da un punto di vista analisi ciclica questo è la prospettiva più semplice che da qui ragazzi il mercato poi vado effettivamente sotto i 50 e quindi vado a chiudere a 48 per dire faccio giusto per dire il tutta questa struttura fra 15 giorni facendo in quel caso ovviamente la chiusura del ciclo annuale in quel caso secondo me sarebbe effettivamente una chiusura del ciclo annuale lo dovremmo vedere perché lasciato di ieri mi lascia un po' perplesso e potrebbe essere anche che il mercato non abbia effettivamente voglia di andare a rompere quel minimo ma lo considererà come un minimo su cui poggiarsi magari in questi giorni e poi ripartire io sono ancora molto fiducioso che il mercato nei prossimi mesi debba dare il suo meglio quindi secondo me questa fase di riposo è una fase di grandissima utilità al mercato di bitcoin l'ho detto più volte ragazzi l'ho detto più e più volte se chiudiamo aprile sotto i 58 qualcosa è molto buono perché andiamo a creare la famosa candela rossa senza esagerare senza fare danni esagerati ragazzi danni esagerati non sono i 50.000 ok chi è giovane di questo mercato magari non conosce che cosa può avvenire nei mercati cripto quindi va benissimo una struttura del genere per il lungo periodo nel breve nel medio ovviamente bisogna stare attenti ragazzi questi sono dei trend che da un punto di vista di breve periodo è stato invertito nel medio periodo è diventato laterale non è ribassista ma è laterale ragazzi ok perché in realtà vedete questi massimi sono molto vicini tutti quanti questo è indice che il mercato è in difficoltà a spingere di più ovvio ha fatto il 400 per cento ci mancherebbe ragazzi è il miglior asset diciamo grosso di tutto l'anno 2020 e anche del primo quadrimestre 2021 dategli il tempo di riposate al povero bitcoin ok la stessa identica cosa lo vediamo anche su eth ragazzi perché guardate eth la struttura è proprio identica a quella di bitcoin ho fatto un cambiamento su eth sulla precedente analisi perché non mi piaceva il posizionamento su questo minimo della chiusura di un ciclo precedente quindi la vedo più simile a bitcoin ragazzi e se andiamo a ragionare con due cicli simmetrici molto vicini da 60 e qualcosa 60 70 ce ne andiamo anche in questo caso intorno alla prima decade di maggio per chiudere il ciclo mensile in questione th più forte di bitcoin perché guardate ha fatto una rialzo più pronunciato questo l'avevamo detto vi avevo anche indicato che i 2005 sarebbe stato un livello facilmente raggiungibile per quanto riguarda aprile nel video dove vi dicevo che th e il re ovviamente video ironico dove c'era la possibilità anche di arrivare su questo ciclo a 10.000 questo ovviamente poi esagerato l'abbiamo visto tutti nei commenti però i 2005 aprile erano raggiungibili così è stato aprire è stato molto preciso ragazzi veramente molto molto preciso in più vi dirò anche un'altra cosa vi faccio vedere anche questo grafico che abbiamo visto insieme nell'ultimo video dove vi parlavo della candela rossa mensile allora questo che è il mio livello da attenzionare di volatilità è rientrato vedete sopra la barra a 14 sopra questo livello quindi è rientrato nella sua naturale struttura quindi questo ci può anche indicare che per aprile le oscillazioni tra un minimo e massimo sono state fatte potrebbe andar bene così quindi a questo punto se il mercato nei prossimi giorni va semplicemente a chiudere questa sua fase riposa va bene e ci chiude anche sotto i 58 per quanto riguarda aprile ci disegna questa candela qui ragazzi questa rossa così come la vedete dopodiché rimanda a maggio l'eventuale ripresa di un trend al rialzo oppure magari un'altra candela di riposo di questo tipo ma non sarebbe una cosa grave neanche se riposasse a maggio ragazzi perché il mercato viene da rialzi stellari ok quindi ricordiamoci queste cose prima di tirare somme additare insomma a fare le solite le solite cose ok ragazzi quindi allora probabilmente prossimi giorni delicati ci sta assolutamente però poi il mercato secondo me può andare verso questa struttura questa è la struttura di lungo periodo ragazzi che ho promesso un video poi è successo un po di flash crash un po di tutto e quindi lo faremo nei prossimi giorni il video analisi di lungo periodo aggiornato di milconi quindi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e poi lasciatemi sempre mi piace perché questo video io lo adoro e mi piace tantissimo e sarà secondo me interessante anche per tutti perché qui c'è anche un'aria di timing di top del ciclo dell'albing che potrebbe dare soddisfazione quindi è carino anche andare ad aggiornare quelle che erano un video che avevo fatto l'anno scorso otto mesi fa dove vi dicevo i famosi 67k raggiungibili entro agosto per vincere la scommessa contro bitcoin ok ragazzi allora detto questo settimane difficili probabilmente sì ci sta però non tutto è perso l'importante è mantenere il livello di minimo fatto ieri inalterato ragazzi quindi se il mercato dovesse accelerare nei prossimi giorni a ribasso e fare un capofitto dobbiamo aggiornarci proprio per questo ho deciso di darvi un po di più in questo periodo ovviamente ragazzi io vorrei farlo sempre però non riesco tempisticamente a scrivere su 2000 canali sapete come sa significa è veramente dispendioso però sul canale telegram nei prossimi nelle prossime settimane cercherò di dirvi quella che è la mia posizione attuale sia sul trend di breve medio che la parte old di lungo periodo va bene ragazzi allora scrivetemi come sempre nei commenti se l'analisi in questione vi è piaciuta e soprattutto si sposa con quelle che sono le vostre idee se non si sposa anche perché perché confrontandoci si impara di più e soprattutto aiutiamo anche tante persone a capire meglio il mercato per oggi è tutto ci rivediamo nel prossimo video ciao